E' un'idea di fare un format semplice in cui io prendo uno youtuber. Buongiorno popolo della Cota! Mamma signori buonasera! Quanto sei caldo? Molto, molto caldo e sono carico soprattutto. Signori, è uscito alle tenebre. Ehm, mi vergogno un po' a dirlo, te de sei single quedo. Aaaaaaah! Nooo! I'm not got it! Ehm. Oh no, no! Ehm. 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 Ehm.